Le persone che hanno voluto visitarci e ringraziamo questo gruppo, l'ennesimo gruppo di questo sabato, un sabato tranquillo, è stato letto dagli Atti degli Apostoli e ringraziamo per coloro che sono venuti, anche le persone che sono andate, lì fuori c'è una ragazza che sta facendo anche le telefonate, adesso viene, è stato letto da Atti capitolo 17, i bereani come si comportavano e poi al Dio sconosciuto e come San Paolo dice che voi lo potrete trovare se mai anche giungessero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, Gesù non è lontano da noi, è vicino, se noi crediamo in Lui, Lui può soffiare, Lui soffierà il suo spirito su di noi per darci la vita eterna e grazie a Dio.